Siamo trovati di fronte una vera e propria corazzata per quanto riguarda la regione lucana. Non hanno perso neanche un set fino ad oggi, quindi onore a loro perché comunque hanno giocato un grande campionato e non per ultima una grande partita. Un campionato un po' tribolato invece per voi che lo state disputando tra l'altro con due squadre. Sì, abbiamo fatto la scelta di affrontare un campionato Under-16 dando la possibilità a tutti i ragazzi di giocare e vivere delle emozioni nuove. Abbiamo un gruppo 2004 numeroso, quindi era doveroso da parte della società e di noi allenatori fare uno sforzo in più per dare un'opportunità ai ragazzi. Un campionato che ormai volge al termine. Sì, manca una partita per quanto riguarda la squadra azzurra e due partite per quanto riguarda la squadra blu. Purtroppo non ci vede tra le squadre migliori del campionato, però abbiamo fatto comunque dei grossi progressi rispetto alla stagione passata e all'inizio di questa stagione. Quindi siamo comunque abbastanza soddisfatti.